Ciao, sono Laura Colabucci e ci troviamo sul Lungotevere dei Mellini, su Ponte Cavour. Siamo qui per presentarvi una mostra a mercato molto particolare che si svolge all'interno dell'antico caffè Ruschena. Il nome della mostra è Fashion & Vintage e riguarda l'abbigliamento firmato, ma anche capi attuali, usati in ottime condizioni. Creazioni artistiche e originali fatte da artigiane che lavorano tutto l'anno su queste nuove cose che fanno poi tendenza nel settore della moda. Al Fashion & Vintage puoi prenderti una pausa shopping molto rilassante, e anche molto gustosa. Infatti l'antico caffè Ruschena è stato scelto appositamente, oltre che per il bellissimo posto, anche per la qualità dei suoi prodotti, la gentilezza dei suoi responsabili e dei suoi titolari. è assolutamente la tradizione di grande e ottima pasticceria, qualità altissima, quindi si unisce lo shopping con un piacevole momento di relax. iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale